Love is in the air. Puntate lunedì 18 ottobre 2021. Selina è molto nervosa dopo il bacio affassionato che ha dato a Dennis. L'Atacan però è ovviamente convinta di non essere stata vista da nessuno. Il giorno dopo la questione della sparizione di Eda si è risolta e Selina si trova regolarmente all'Art Life insieme a Serkan. Quando Bolat si allontana dalla sua scrivania, Selina nota una strana lettera gialla e in curiosità decide immediatamente di aprirla. La ragazza resta sconvolta quando vede che all'interno della busta ci sono le fotografie che mostrano il momento del bacio tra lei e Dennis. Selina va fuori di sé e cerca di liberarsi immediatamente delle prove del bacio affinché Serkan non le veda. Intanto Alexander si avvicina molto ad Aidan e continua a dirle di voler avere una possibilità con lei dal momento che la relazione con Eifer sta diventando difficile e intende interrogarla. Grazie a tutti.